ciao vediamo questo giro in girello quella allora dal titolo amici miei ciao Loki hai visto il titolo? guarda reaction Loki 47808 allora la live si strutturerà così amico mio quando entra Sharder facciamolo online non andare a vedere la livrea non andare a vedere la livrea il regalo ok perché ha fatto il mitico Sharder quindi stai calmino lì quando dopo entrerà Sharder entrate nel party eccolo Sharder grande grandissimo Sharder stavo dicendo a Loki hai visto il titolo? reaction Loki 4708 per la sua mitica livrea ah 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 la live di ieri mille volte grande grande ciao amici di Twitch grandissimi bella lì ah ah grande Sharder ha fatto una sorpresa in Gran Turismo 7 per il mitico Loki ah dai allora ti rilassi un attimo amico mio eh sei rientrato adesso dal lavoro porca miseria amico mio alle nove tutto bene tutto bene Loki tu come stai? tutto bene tutto bene allora qui purtroppo che auto ci sono leggendari te le faccio vedere Sharder tante troppe c'è quella per fare il trofeo e infatti vedi che sto farmando perché oggi gli ultimi giorni di scuola Leonardo non può più e eh Carla non è riuscita quindi sto farmando io come comunque ho sempre farmato io ah ah dai dammi un milione dai ti prego tanto oro tanto oro tanto oro ah ah 30.000 cosa me ne faccio 30.000 vabbè meglio di una sberla allora guarda qua amico mio ti faccio vedere le auto usate prima di tutto mica che hanno messo qualcosa anche qua allora la Fiat no auto usate praticamente io le ho comprate tutte ok niente allora le auto leggendari amici miei invece hanno messo la Jaguar Jaguar XJ13 del 66 che è quella per il trofeo vede auto da corsa Le Mans motore centrale 12 milioni poi hanno messo 487.000 la Shelby che ci sta hanno messo a 3 milioni la Porsche 911 questa volevo comprare io ragazzi sono la Porsche e poi hanno messo la Corvette che possiamo anche comprarla subito quindi 500-600.000 3 milioni 3 milioni dovrei allora dovrei intanto che aspettiamo gli amici che entrano hai visto Shardel che mitiche auto leggendarie io vorrei comprare tutte le altre e poi farmare 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 come dei pazzi alla chat bevi bevi pettine allora Loki ha riscattato pettine allora pettine lo faccio volentieri ah no c'è anche il bere effettivamente ciao amici ciao grandissimi amici amiche di Twitch la livrea la livrea amico Shardel ma Shardel tu devi andare a mangiare per caso perché io voglio che entriamo ciao amici amiche di Twitch grandissimi io voglio che entriamo in party Shardel così sentiamo la reaction di Loki in diretta se volete già fare eh infatti infatti Loki no no aspettiamo un attimo per la livrea così lo voglio sentire urlare nella chat nel party il mitico Loki lo voglio sentire urlare o ringraziati o farei aah aah ciao pippuzzo grandissimo ciao amico allora stasera seratona allora ho speso 38 milioni al giorno del mio compleanno quasi per nulla adesso hanno messo l'auto come stai bro tutto bene tutto bene pippuzzo grandissimo tu come stai tutto bene diciamo che oggi sono stanchissimo stanchissimo davvero però sapete che giocare con voi è una figata eh 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 grandi ragazzi allora pippuzzo devi sapere una cosa stasera serata spettacolare spettacolare perché la reaction di Loki la vogliamo sentire in live voglio entrare nel party con Shard e Loki e sentirlo proprio sguainare ahahah dalla sua mitica livrea eh la andiamo a vedere insieme poi lui la potrà usare e poi andiamo a fare qualche bella garetta online eh io adesso sto facendo 12 giri qui oh frac amico mio grande come stai frac compiti a manetta anche oggi cangeria finiranno le scuole adesso eh a giugno bella ragazzi ciao grandissimi se siete iscritti al canale grazie se non siete iscritti al canale scrivetevi iscritto eh grandissimo dai 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 ho messo sulla 4c la polivrea domani verifica eh mi ricordavo che l'avevi detto amico mio grande frac dai mi raccomando fai tutte le verifiche fatte bene così almeno passa sto periodo e poi ci possiamo dedicare al gaming alle live tutta sera tutta sera tutta sera tutte le sere del mondo ciao chard ciao l'occhi l'occhi l'ho messo bella ok eh si ragazzi grandissimi 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 allora stasera mega salatozza gran turismo ieri è stata una bella una bella live col mitico giubituzzo tv grandissimo col mitico l'occhi e col mitico pierpaolo il dissociatore a warzone mi ero perso parla scusate a warzone 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 ma tu lì stasera bisogna farla la lobby per forza assolutamente sì assolutamente sì lascia mangiare con calma charder che deve rilassarsi un attimo che appena tornato dal lavoro quando dice che fa la lobby entriamo da lui reaction quindi entrate nel party che ho già creato sentiamo le vostre voci andiamo prima di tutto a scaricare la livrea che ti ha fatto il mitico sharder reaction e la diamo poi domani non vado fuori oeeh bella lì che fortuna che fortuna io domani devo andare al lavoro e ho anche un corso di formazione sulle macchine utili è vero ma botto botto perché ah ok dopo che sono stanco morto ma entri charder no non le vogliono giocare no non ho capito un sharder esperienza sul circuito fare oro e tanta roba ah ok 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 perfetto riposati e mangia tranquillo intanto guardi un po' la livettina sharder dopo quando c'è voglia di fare la lobby la crei ok beh la solita tipo per il red bull ring tutto oro 1 milione e il north life tutto oro 100 milione si per fare tutto oro north life e il red bull ring non è facile però si si che hanno aumentato i premi della esperienza sul circuito si è vero è vero di ragione allora diciamo che potrei anche andare a provarlo dopo io ne ho fatti 6 mi sembra di esperienza sul circuito ho preso il primo trofeo adesso mi manca a livello proprio di trofei quello della macchina che la compriamo adesso che è uscita quindi se volete fare tutto il trofeo della macchina è uscita la jaguar che è valida per il trofeo poi mi manca l'ultima patente e quella dei 14 esperienza sul circuito mi sembra e poi le photoscapes 100 foto bisognerà che ogni volta andiamo a fare 6-7-8 foto così in una settimanella o 10 giorni al massimo riesco a fare il trofeo senza neanche accorgermi l'importante adesso entri 4-5 giorni qua che lasciano la macchina che devo fare assolutamente 12 milioni infatti adesso sto facendo un po' questi qui sono già arrivato 3 e mezzo però c'erano anche altre macchine che mi interessavano io sto finendo l'ultima patente in questi giorni e anche io frac l'ultima allora a me manca proprio l'ultima l'ultima patente quella con la macchina lì su bagnato ed è veramente roba difficile roba difficile direi 5 e io le ho fatte con voi ti ricordi frac prima le avevo fatte tutte come venivano venivano per poter sbloccare tutto e dopo le ho fatte bene tutte oro è solo che ce n'è qualcuna che veramente è tosta la finale proprio lì con quella macchina lì che da forza lì che non tiene la strada e se vai un po' fuori dal dal secco e vai un po' sul bagnato che ti giri è una cosa veramente stressante infatti volevo incominciare a fare la gara e provare 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 insieme eh sì eh sì no no io no perché sennò a questo punto non avevo neanche streamato non avevo fatto assolutamente niente perché le se non fai tutte le patenti anche a bronzo non ti fa sbloccare l'online un sacco di roba poi io non me lo ricordo perché sinceramente è passato troppo tempo ciao amici amiche di twitch come state come state ragazzi e ragazze aspetta che condividiamo un attimino la live raga allora come state come state marco che record c'hai qui a tokyo eh ma con la tomahawk dici eh non lo so a giro ho fatto uno e quindici mi sembra uno e quattordici ma non vado mai forte ti dico la verità perché mi va troppo veloce la macchina e mi fa andare troppo in pappa il cervello ma c'è proprio detto detto con piccole parole per piccoli uomini mi fa andare in pappa il cervello ti dico la verità infatti devo ogni tanto cambiare anche l'angolazione e la telecamera da dentro da fuori eh non riesco a fare olo con la formula alla gura secca eh quella è tanta roba eh quella sono riuscito e dopo quando ci sono riuscito ho fatto due tre record uno dietro l'altro non sono molto su quella della formula 1 perché credevo di riuscire poi a fare eh quella della formula 1 è tanta roba ragazzi ce n'è qualcuna ostica davvero eh sì io sono riuscito io sono riuscito però devo dirvi la verità è stata tosta eh sto condividendo la live one second please così poi finiamo andiamo a comprare macchine e poi andiamo a vedere la mega livrea che ha fatto mitico shard per Loki non vedo l'ora non vedo l'ora ragazzi non vedo l'ora allora Marco viene a casa mia e me la passi tu eh assolutamente facciamolo con lo share play grandissimo grandissimo ciao amici di twitch come state come state reaction incredibile le parole inglesi le parole inglesi re re act tion di Loki sentite che parole dai vamos stasera da solo no 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 stasera c'è sharder e c'è Loki e se volete venire chi vuole venire eh perché si fa una bella live tutti insieme adesso non mi aggiorna la chat della live come faccio non lo so non lo so allora sharder ciao amici come state ok condivisa la live su facebook grande riapri twitch dicono riapri twitch twitch vai ciao amici amiche come state ragazzi allora stasera mega seratozza pazzesca pazzerella oh qualcuno mi ha detto di pettinarmi allora io mi pettino ragazzi ci sono le nuove emote ragazzi le nuove icone che potete far pettinare il mitico Marco Grano se lo farlo bere mi raccomando non fatevi bere troppo se no devo andare in bar ah 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 grazie pettinare anche lì perché sennò poi perdo i capelli sul cazzo hai fatto che cosa pettinare ah hai fatto la chat bravo allora ragazzi finiamo sti sei giri veloci 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 più veloci del west stiamo sfarmuzzando perché voglio andare a comprare tre macchine stasera tre macchinette wow botta boterella mi ha dato cinque secondi penelità no questo gioco fa un po' quello che volevo però ragazzi ah eccolo qua eh scusa infatti sapevo che me la dava la penelità io ritengo uno dei migliori giochi questo qua oiaiaiaiaia caramba oiaiaiaiai caramba scusate ho fretta ho fretta allora al contempo quando si prendeva dentro la gente nella pista di sardegna vi dava non il bonus sportività invece qui se prendete dentro tutti fa quello che vuole fa quello che vuole allora ragazzi andiamo a comprare tre macchine una è la shelby l'altra è non me lo ricordo e l'altra è la già no 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 e l'altra è la porsche 911 qualcosa gt3 boh vabbè una porsche e poi ragazzi domani dopo domani quindi penso giovedì sera se faccio in tempo a farmare giovedì venerdì venerdì sera vi aspetto tutti con rocket league rocket league facciamo rocket league insieme a voi amici di twitch a zio mario xd vediamo un attimo se riusciamo a fare una bella serata un po' diversa guardi monaco sto weekend assolutamente frac faccio la pista di monaco assolutamente ci vediamo in live caspita avevano finito i biglietti alla faccia della crisi no no allora visto che hanno finito i biglietti ti aspetto nella mia live perché io alle 2 l'orario in cui parte la partita eh si eh si allora rocket venerdì rocket league venerdì ragazzi venerdì sera alle 21 rocket league chi c'è c'è chi vuole venire si può fare a rotazione giochiamo insieme perché la partita da 4 siamo io zio mario e tutti gli altri vengono dopo quindi se c'è Loki e se c'è qualcun altro sharder eh zack o insomma chi sono chi sono ok tu ci sei chi vuole venire più puzzo qualsiasi qualsiasi ragazzo qualsiasi di voi qualsiasi amico porti anche rocket si frac venerdì rocket league sto vedendo un attimo di fare delle programmazioni anche di altri giochi tra l'altro volevo portare anche ditemi se vi piace l'idea pool nation il gioco del biliardo vi può piacere come come live una bella live con il gioco del biliardo online però sono solo da mobile comunque rocket league è gratuito è franco basta che lo scarichi dovrebbe essere diventato free to play non vorrei dire una stupidata ma dovrebbe essere diventato free to play io ci ho giocato un po' poi non avevo più il gruppo di amici che ci giocava e quindi sai com'è dopo un po' fare quei giochi lì da solo ti scassi ciao amici e amiche di Twitch benvenuti ragazzi e ragazze grandissimi adesso andiamo a comprare tre macchine poi andiamo a vedere la livrea che ha fatto il mitico shard della Loki quindi reaction di Loki per la mitica sua livrea e poi andiamo a fare andiamo a fare un po' di onlines onlines io le macchine le compro le proviamo eh comunque perché tanto comunque è presto cambia le gomme andiamo sono finite queste gomme gomme finites hai ragione hai ragione più appusto ciao Giulia grandissima adesso si dai Giulia come stai amica mia c'è anche il mitico lord grande lord amico mio ci sei mancato oh grande lord bella lì lord bella lì mo perdi le ruote ti immagini se non le attaccano bene non le attaccano bene le ruote ragazzi le perdo per strada allora sei giri sette ma gli se ne frega dai facciamo un pienozzo un pienozzo no no facciamo il pieno vai 10 abbiamo abbiamo fretto abbiamo fretto Giulia lord e tutti gli amici che sono entrati adesso ciao buonasera a tutti benvenuti come va tutto bene cosa avete mangiato di buono e stasera adesso andiamo a comprare tre macchine ragazzi e andiamo a vedere la livrea di Loki con la reaction con la reaction di Loki la reaction perché a tutti piace fare stessi reaction con la reazione di Loki la sorpresa di Loki perché lui ha detto che non è andata a vederla e io credo che sia così quindi voglio proprio vedere quando vedrà la sua livrea fatta dal mitico Sharder Design che è in parte adesso poverino è arrivato anche poco tempo fa dal lavoro grande Sharder dedito proprio al videogames faccio un po' di compiti ma ci sono ok allora controlla quando c'è eh sì eh sì è la reaction più bella del mondo certo è certo ah grandissima Giulia cos'hai mangiato Giulia non hai scritto allora ragazzi Carla e Leo sono andati a camminare anche se secondo me sta piovendo però o il ventilatore che fa un casino sembra pioggia c'erano di quelli botti prima che non è solo i botti di Giulia ma ah 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 scherzo vediamo eh infatti 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 allora oè la Phil grande Phil amico mio ci sei per un online dai speriamo che c'è Phil per l'online lo sentiamo fare il casino grande Phil tirare quel freno a mano davanti a noi ah 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 grandissimo Phil quella Phil adesso c'è la reaction guarda giusto giusto due giri c'è la reaction di Loki per la livrea che ha fatto tutti con Charlie cos'è che cos'è che mi hai detto che hai mangiato Giulia io non mi ricordo niente oh alle 4 cacchio allora rimani con noi dai rimani con noi che vedrai la reaction no vedrai no perché non c'è la telecamera però sentirete la reazione la reaction di Loki per la livrea adesso oh mio dio finisco questa qua grande Phil grande Phil lo squacquerello cosa è un mortadello lo squacquerello lo squacquerello ragazzi Lord Shard grande Phil grande Phil lo squacquerello lo voglio proprio assaggiare sarà come lo squacquerello come lo squacquerello con i formaggi molli buonissimi tutti che vi svegliate presto ragazzi grandi io vi sveglio le 6 20 sempre domani oh Lucas grande Lucas bella lì stasera adesso guarda due giri Lucas compriamo tre macchine fichissime le andiamo a provare c'è la livrea di Shardler che ha fatto l'opi con la reaction quindi lo facciamo entrare nel party spettacolare serata era buono in magna eh si dimana comincia il turno delle 4 caspita Phil ho preso le auto sto facendo l'attività ah ok ok intanto io finisco ok ok dai che così allora io che cosa ho mangiato ah la pasta col sugo rosso con la pancetta e un paio di panini le michette perché a me piace la pasta col pane ciao ragazzi benvenuti ragazzi e ragazze grandissimi benvenuti in canale di Marco Drums Games Channel finiamo due giri velocissimi andiamo a comprare 4 circa 4 milioni di macchine ciao a tutti grandissimo Lucas buono sì sì no Giulia a me la pasta guarda più la pasta col pane col panino che fai la scarpetta è una cosa che secondo me è iper spaziale stasera invece oggi pomeriggio ho dovuto mangiare al lavoro e sono andato a mangiarmi la pizza doppio gusto che è quella con una pizza margherita con il salame piccante il gorgonzola e le patatine fritte sopra buonissime con una una cola una cola ma col chio lo faccio ah è fantastica il pane secondo me è una cosa assurda il pane lo metto dentro anche quando non serve ma c'è un pane dalle nostre parti c'è il panettiere che porta il pane tutte le mattine non so se anche da voi è così e la scarpetta eh sì sì fantastico viene il panettiere col motorino o con la macchinina quando piove che porta il pane tutti i giorni tutti i giorni a me piace tantissimo l'amichetta quella normale quello sapete no il pane quello che è soffiato dentro che non c'è la mollica a me piace quello ciao amici e amiche di Twitch come va tutto bene state bene bella giornata mi raccomando iscrivete in chat così vi posso salutare se non siete iscritti al canale iscrivetevi amici così arriviamo a 5.50 dai ragazzi dai 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 Giulia tu oh grande Giulia bravissima che sei entrata avvertimi se qualcuno si iscrive che lo salutiamo e lo ringraziamo dai 5.47 ragazzi tre iscritti e siamo a 5.50 dai iscrivetevi amici miei che volante che volante hai il G29 che volante hai il G29 ma è me lo stai chiedendo a me no oh 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 firme lo stai chiedendo a me G923 è l'evoluzione quella col True Force se lo stavi chiedendo a me se lo stavi chiedendo a qualcun altro ah si G923 il partacchino qua che è praticamente l'evoluzione del G29 ho 3 milioni e mezzo non ce la facciamo comprare tutte le macchine ragazzi vabbè fa niente fa niente fa niente allora che ore sono 9.30 volete facciamo la party Sharder uè Tommaso è vero è vero amico mio cosa è successo tu devi entrare nelle live di Marco Drans che ci divertiamo ah 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 grandissimo Tommaso allora andiamo a comprare macchine io sto benissimo oh intanto bevi mi hanno fatto guarda Tommaso ci sono le nuove icone che abbiamo fatto c'è quella del bevi e pettine mi stanno tirando scevili amici eh che guarda mi pettino e bevo in teoria dovrebbe essere una birretta però se bevo birretta ragazzi non riesco più a far niente esatto esatto allora facciamo allora non vedete la mia immagine perché sto andando nel party eh ok oh Sharder vieni nel party oh ho chiuso il gioco Sharder vieni anche tu nel party guarda che belle le nuove icone ragazzi Tommaso eh Phil tutti quelli che erano siete un po' che non venite la macchina eh il pilota Marco e Carla fai vedere Oli sì signore sì signore fai vedere Oli Giulio Oli Oli ecco Oli buonasera grandissimi io tra poco tanto lo sento dalla live ok 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 allora amico mio come stai benissimo ho avuto la bava oggi a scuola mi vedevo di tornare a casa allora prendi immediatamente che macchina è che dobbiamo fare che non mi ricordo più che devo metterla io sulla live e devo prendere la macchina è la ah la va su Grand Central no per averla ce l'ho ciao ragazzi ciao amici per averla ce l'ho devo solo andare a prendere tra le mie 432 macchine ah vai nel garage e la selezione eh ma che macchina è là è Loki frac è Loki presentati Loki hanno chiesto chi è Loki è Loki ragazzi è una persona vivente no forse forse è un bot forse è un bot forse è un bot ragazzi si ah 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 Toyota Drift non so chi vede quindi Sharder ti ha fatto la Toyota sì BRZ ha la Drift Car dovrebbe essere ma non è Subaru si 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 è Subaru perché mi dice Toyota come Toyota ah ok ok no 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 ok ok tutto bene tutto bene è che era sopra la Toyota grande grande allora andiamo subito ragazzi sta piovendo un botto il Carlo e Leonardo saranno fradici allora perfetto sì sì sono andati a camminare no no andiamo che non piove oh mio dio adesso sto zitto eh voglio sentire la reazione del mio amico Loki guarda la live Loki ci sei? no no aspetta aspetta finisco prima la gara che la devo vedere mi deve dare l'ok Sharder dopo prima finire la gara compra le macchine fida di tanto mi mancano due giri allora mancano due giri e lui assurda ragazzi assurda assurda non ho ancora vista eh giuro non ho tocchiato lo sguardo sul telefono assurda assurda uuuuuh ai ragazzi qua stanno iniziando assurda spettacolo oddio e si no 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 non spendere niente devi 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 deve venirti una meravigliosa pazzesca addirittura mamma mia sentite dei dei cassini da parte del mio microfono sono io che probabilmente sto dando di matto quindi è normale tranquillo si si ma puoi anche urlare se vuoi eh perché stavolta te lo concedo perché questa reaction si ma fammi capire una cosa Sharder amico mio bellissimo ma come cavolo è che fai le macchine spettacolari per Carla e Loki e le mie sono un po' così no ragazzi assurde assurde no qui fa caldo e piove giuri mamma mia si si qui fa caldo e piove è assurdo allora e adesso vedrai che quando Sharder quando Sharder eh Catra non so parlare adesso vedrai adesso vedrete ragazzi Sharder il boss del livret si 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 adesso il mitico finisce i due giri e poi viene qua da noi andiamo a comprare la macchina nel frattempo dai appena ci sei che hai finito me lo dici che andiamo subito a ok a vederla ma l'hai già comprata la macchina si? si io ce l'avevo già ce le ho tutte le macchine ah ok allora andiamo a montarla ciao amici amiche di Twitch benvenuti ragazzi grandissimi allora la livrea di Loki comunque ho sentito stupenda dimmi dimmi cioè in questa settimana probabilmente ci sarà aggiornamento bene 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 si tre macchine scusate la parola delle lobby oh davvero mettono penso due tre psi penso eh non lo so spero vivamente eh no no tre volte dicono così mamma mia c'è pensate che certi player che hanno scaricato Gran Turismo 7 sono tornati allo spot perché le lobby sono fatte meglio quindi pensate un po' a voi eh speriamo speriamo che sistemano tutto perché noi questo gioco lo amiamo tre macchine tre piste mi sembra ah anche le piste sicuro che mettono le piste le piste non ho sentito niente io perché allora in teoria sicuramente le metteranno prendendo spunto dagli altri capitoli di Gran Turismo vabbè con le poco ma sicuro le piste storiche quelle cose lì no sì tipo quella di Londra che sembra a Monte Carlo però a Londra oh ragazzi allora andiamo prima a prendere questa corvettina ci stanno scrivendo che io non ho il telefono spento no no ti dico se se scrivono a te per adesso hanno scritto solo a Scharder che è un mito allora fracca ha scritto bravo Scharder grande è vero è vero ok finito fatto oh sì ok allora io intanto ho preso questa corvetta del 63 che dopo magari ce la ce la facciamo andare amico hai una bella voce ah Giulia ha detto che hai una bella voce l'occhio ah sì grazie Giulia me l'avevi detto anche ieri grande grande Giulia allora sono arrivati anche tipo Mario e Lord si assomigliano a livello di contenuti perché portano dei giochi molto particolari tipo l'altro giorno Lord gli insegna ieri ha portato un gioco c'è presente un terazzo per pc sì 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 è simile a quella della firma da garage dici Phil figo 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 allora andiamo nel garage sei pronto? sì fammi riscattare due tre cose e arrivo dai muovas però allora negli scapes dagli scapes no no da qua mamma mia ragazzi dici mila vai metto la la perezzetta da drift ok filmato? in che senso filmato amico mio ah filmati scapes ci sono deve entrare charder manca charder charder ha detto che sta un attimo lì entra pure a vederla che vogliamo la tua reazione ok adesso gliela faccio vedere così allora aspetta entra con questo drift che è una meraviglia sì 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 sei nella live? amati ci sei? dimmi quando ci sei eh? ma seriamente? guarda la tua macchina amico mio io sto muto eh voglio che parli tu vabbè dillo che charder dillo che sei picazzo dai è suscitato dai mamma mia guarda guarda monster drift car loki 47 sul tuo brz drift rinnovation guarda quel mezzo che hai guardalo grande charder guarda al fianco incredibile drift racing team grande charder chiacchio dai vai a scaricartela amico mio vai che la va a scaricare eh sì allora charderino fai il party grandissimo grande è vero è vero grandissimo che è successo penso che se a qualcuno non piacciono le linee di charder penso sia un babbano eh sì per forza un babbano sicuramente allora ragazzi dai adesso andiamo a fare l'onlineino però prima voglio farvi vedere tra le mie questa macchinina che abbiamo preso adesso andiamo a farci un giretto intanto che si prepara la lobby del mitico charder che pista facciamo? da chi hai imparato charder ragazzi è minicica eh sì eh sì per quello che per quello che ti avevo detto più di una volta eh sì bisogna avere pazienza ferma madonna ragazzi ce l'avevo anche tra un mese vabbè adesso ce l'hai adesso si tranquillo si felice perché ce l'hai allora grandissimo charder davvero bravissimo ogni livra è un capolavoro adesso amico mio charder bisogna è quello delle 5 stelle non l'hai visto è di vedere tutto notte 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 amiche mio aspetta c'è i dettagli per portare eh sì c'è tutti i dettagli ciao phil buonanotte amico buonanotte notte bella bella perché ho sentito la live di ieri e mi sentivo tantissimo perché ho piaciuto comodo sì e vai a sentire adesso senti adesso ho messo le ah ok ah ok 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 perché io ti sentivo da party ti sentivo bene poi io live sono tutto un altro discorso sto imparando adesso tante di quelle cose incredibili che rimbombi strani echi robe tipo chiesa perché non senti mai niente nel party si sente tutto bene lì invece fa un po' giù strano comunque amici e amiche mie se per caso la live di Marco bellissima quella Giulie Marco e Carla la mia la mia mogliatina preferita la Giulia il pilota e se per caso va via la connessione ragazzi qui c'è un temporalosso da paura e di solito quando fatti i temporalosso da paura va via o la corrente o va via la linea quindi se per caso va via la linea ci vediamo direttamente domani sera sapete che perché piove tantissimo spray oh tutta rossa no mia mogliatina preferita perché la amo tantissimo no no una 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 e amico amico mio ne basta una nella vita ti dico ah ah incredibile questa macchina fa veramente schifio grazie giuri ne basta ne basta una basta scegliere quella giusta ragazzi sta accendendo ok charlera sta accendendo così fa la lobettina cercalo 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 perché io ho il successo livrè ci sono sette ci sono sette centemila di vedi drift racing team i'm not drunk in madrid reaction ragazzi di loki alla livrè che ha fatto il shard devi vederla sai quando vai che puoi selezionare la destra e la sinistra anche se no non riesci a vedere tutte le cose che mette il shard è troppo forte mi manca la 4c anche che ho fatto la livrè che bella macchinetta ragazzi mamma mia quanta acqua sta venendo giù ragazzi quanta acqua sta venendo giù amici una bombazza di acqua se sentite un po' di casino nel microfono tipo rumore che sta cagendo veramente troppo acqua ragazzi spero spero vivamente da me non piove qui a Varese piove qui a Varese sta piovendo a bestia proprio dopo andiamo a venire 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 fa caldo da te Giulie vediamo se risponde perché sta accendendo per fare la lobby madonna che macchina che livrea che serata mega reaction di Loki poi la mettiamo su TikTok Drift Master Drift Master è bellissimo una volta ci ha provato per finire adoranza mamma di se vede in cui lo hai fatto il piano ma eh sì lord no non lo so sono già tornati non ho sentito urlare quindi probabilmente Varese vicino al Lago Maggiore assolutamente sì Frank siamo vicino al Lago Maggiore te gara tu sì sì no anche a trovarli proprio sì 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 è incredibile no no tutto quello che fa il mitico sui signora no è bellissimo è qualcosa di epico ecico dopo quando facciamo il party voglio metterla anch'io così facciamo vedere e anzi vai tu ti faccio vedere eh sì fai lo screen per forza devi farlo vedere che hai i tuoi amici a scuola eh ragazzo eh questa è una cosa che hai solo tu eh in tutto Gran Turismo quindi caspita oh ho sbagliato ahah ragazzi che f***ato di serata allora andiamo un attimino a vedere ma che mi fischia la canzone mia la fischia ah la canzone tua ti è entrato l'uomo tigre no l'uomo tigre non è ancora arrivato l'amico nostro e non partire con l'uomo tigre se no mi va in pappa cervello ahahah allora compriamo la e che fai te ne privi di driftare eh no eh no eh no eh 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 lago maxima invece di maggiore ahahah da strada vale a 0-100 in 3 secondi traggiunge i 3-10 gt1 strassen version progettato dal costruttore del gt1 dell'allemano sembra una 993 9-11 dal muso di sospensioni è bellissima eh la parte posteriore ricorda molto la porsche guarda che bella cioè è fantastica raga guardate che bella questa ha gareggiato l'allemano il motore biturbo con 3,2 l'occasione di far entrare il pochino e tu l'hai proprio adesso e io ce l'ho adesso 3 milioni grande anche tu bravo 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 la livrea la livrea migliore grande grande 3 milioni 3 milioni spawn quale è la corvette ho 300 mila qual è la corvette qual è la corvette allora la mark 9 guarda questa la mark 4 race car 67 è per il trofeo se vuoi platinare il gioco questa è una da 4 milioni e 6 ah va bene ma e poi quella per il trofeo che io devo prendere assolutamente questa jaguar jx 13 da 66 da 12 milioni perfetto 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 andiamo subito a provare questa 911 11 740 4 7 7 7 7 7 7 12 milioni fracca bella andiamo a provarla a spa dai a spa la voglio provare questa qua io sto creando bravo 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 dai intanto intanto sharder sta creando la partita quale che mettiamo che pista metti sharder è un dragon 3 perché il dragon 3 è ancora abbastanza inibito bravo spa l'adoro possiamo fare anche spa ti vale di fare spa si dai anche spa anche spa sharder una pista un po' più che sidiosa è un po' più pista almeno beh metti sole ha fatto qualcosa di strano con la prima sta macchina e penso che arriva dopo o si sono lavati i fradi ci sono fuori che si stanno giugando al sole all'aria oh circuito barcellona ci sto ciao deciso grande guarda cosa ho comprato deciso ti piace questa 911 gt1 amico mio 12 giri va bene va bene va bene va bene sharder dai che facciamo la benza allora grande deciso è bella anche dentro con i classici 5 allora è una di quelle Porsche che ciao amici amiche di Twitch benvenuti ragazzi è una di quelle Porsche che non va dove vuole lei cioè nel senso che mi smanetta di di retrotreno però è un po' da interpretare è un po' da interpretare grande deciso si signore si bella lì bella lì bella idea questa cosa che parte l'anteriore ma è difficile no con le Porsche va sempre dietro stupenda è fantastico è perché tiene un po' poco devo un po' imparare sinceramente perché le Porsche fa sempre un perché le Porsche sono un po' particolari oh DSC amico mio grandissimo guarda cosa ho comprato stasera DSC 3 milioni ah ce la prendi anche tu Sharder bella guardate dentro ragazzi che roba eh si eh si DSC questa Porsche che poi tra l'altro è senza sospensione è senza nulla stanza fatta arrivo arrivo Sharder arriviamo arriviamo vai anche tu quando appena poi vai dentro la stanza di Sharder ah si è già dentro la stanza grande ma di prima è veramente tanta roba ci mette un botto ci mette un botto ci ha fatto la prima lunga 780 cavalli a 780 questa cacchio bisogna mettere i freni della Brembo carboceramici questa non frena una sega come mai come mai eh beh carbo ceramico frena di più eh ciao 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 Roby ciao Roby grandissima ben arrivata ben arrivata amica mia guarda che macchina abbiamo comprato Roby eh mamma mia scusate Roby eh Roby lo che gli ho detto tutti tutti guarda guarda Roby ti piace? beh è cattiva eh eh guarda che roba cattivissima da dietro eh questa forcettina è solo che quando eh sì eh sì eh eh sì eh sì no con la benzina è più vengono le gare più belle ragazzi è andato a Ruba e ha fatto un bel successone ciao ciao grande Roby che saluta a tutti grandissima a me non mi saluti Roby ciao Roberto ciao amica mia ascolta grandi allora sabato no la live di domenica che non so sì di domenica si può dire la live oh ah lo so lo so mi ho visto che mi hai salutato grandissima grandissima buona serata buona buona live no non so più cosa dire ragazzi ho bevuto acqua eh stasera quindi se dico stupidate non è per l'acqua chardelino se vuoi entrare in live se vuoi parlare con noi c'è già il party aperto se invece non vuoi vuoi giocare basta maestro lord stai dentro e tranquillo come vuoi tu chard mamma mia è cattivissima uuuuuh si si ho bevuto un po' di cola giulia un po' di cola ma la cola non penso che faccia quella uuuuuh dai raga ma questa macchina vabba eccolo oh ecco il charder che è arrivato charderino ecco che prende il microfono commentiamo l'arrivo di chard ciao ciao frac ciao frac buonanotte buonanotte amico mio mi raccomando buonanotte ah no aspetta che gli cantiamo la buonanotte a frac buonanotte frac buonanotte amichino sogna tante carotine che vengono a adesso frac non lo so ciao frac marco no mi dicono mi dicono marco no però ci stava io e DSC abbiamo rispettato baby lord pettina ah allora ascolta aspetta aspetta bravissimi perché faccio oh ragazzi sto diventando cieco che mi sa che devo fare gli occhiali non riesco più a vedere da qua allora insieme ragazzi insieme ah vedi che non mi va su nuova attività pettine eh sì eh sì un minuto fa robbie eh sì eh sì beh avvisatemi ragazzi perché non guardate che bella sta Porsche molto bella molto bella molto bella allora io adesso entro nella robbie con loro due col mitico Charler design e col mitico Loki drifter adesso drifta non colo di più eh caspita adesso drifta giusto eh allora amici e amiche tra pochissimo quando farm compreremo questa Jaguar che valida per il trofeo quindi ragazzi se volete platinare il gioco dovete assolutamente comprare questa Jaguar eh e poi magari stasera prima di andare a letto compriamo questa Shelby GT350 del 65 da 487 milozzi eh allora andiamo alla lobby se per caso amici miei parte la connessione non mi vedete più non preoccupatevi ci vediamo direttamente ogni sera perché sarà o sicuramente andata via la corrente o il temporale che ha fatto un casino ok ah grande grande Charler non è un po' che non ci sentivamo in party eh amico mio ciao amici ciao amiche sì no perché a volte è bello anche giocare senza sentirsi però dai stasera ci sta ci sta un bel partino un bel partettino aspettiamo vediamo se funziona l'amico Loki dice Charler che forse mettono a posto le lobby eh con l'aggiornamento speriamo eh eccoci qua bella ciao 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 bello come si chiama aspetta che non me lo ricordo ciao Christian ciao amico mio come stai tutto bene ciao ciao bravo grande Christian grande bravo bravo dai dai tutto a posto tutto a posto tutto a posto grazie Belè grande grande va bene va bene assolutamente si 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 grazie amore assolutamente ti aspettiamo eh Cri ti aspettano va bene grande tempo di arrivare a casa con la macchina bravo bravo allora noi chiudiamo la live alle 11 eh quindi vedi di andare a casa subito ah 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 ragazzi l'avete sentita la botta? si eh si è temporale vedi proprio di si va eh si temporale davanti a casa mia ragazzi non è una bella cosa non è niente è noto la cosa caspita spegni un po' no le luci no perché non c'entrano una sega tanto c'è il parafulmine sulla chiesa quindi al massimo incenerisce la chiesa poverino temporale Roby un disastro sta facendo una bomba d'acqua una bomba d'acqua Roby le avete presa voi? vi siete bagnati? si vai vieni qua a farti vedere c'era Carla e Zan e Boy e Leonardo che stavano fuori a camminare e hanno preso l'acqua spero che non sia da me fa caldissimo oh da te fa caldissimo grande Roby ciao Carla non c'è ancora la Carla almeno dimmi la mamma di collegarsi almeno non sono diventate più famose io ti sa ci voglio io ti voglio io e che guardo io sono su le quote allora ragazzi non si sta connettendo non si sta connettendo amici miei come facciamo? c'è la 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 tutti fermi siamo riusciti ad entrare ragazzi grande allora allora cambiamo subito la macchina anzi andiamo a vedere eccomi loki 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 stiamo vedendo in live vai 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 sei parcheggiato sui gommoni sulle gomme dai che vogliamo vedere un giro completo di loki dai 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 allora dimmi quando parti loki stiamo facendo vedere il sharder no non sono già partito no sei fermo no non dirmi che è il problema che io e te non ci vediamo ti vedo fermo io che barba eppure no facciamo un giro allora cambia auto no 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 non è il solito problema stai dentro stai dentro adesso provo a prendere la macchina e faccio un giro vediamo un attimo no io ti vedo ti vedo caricare ah io no però ah forse allora sono io che ha problemi mi senti l'orghi sì sì però no ti vedo eh non è il solito problema che c'è sempre allora perché eccolo qua eccolo qui ragazzi oh sì che tu ah questa che pista è scusa ah è quella che ho fatto 66 giri grazie eh grazie amico mio eh ciao dove vuoi grazie grazie Charles è umano proprio ahah prego è tutta un'altra cosa con questa macchina eh con la formula 1 chi la prendevo a manetta comunque vi stavo dicendo prima amici e amiche che eh la live di domenica è andata benissimo benissimo ah ciao Leo tra poco eh ciao ciao dai ti aspettiamo ciao mitico ciao 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 Giulio e Robi grane e zane ma come se mi vuoi uscire però dici tu Charlie mi vedi io so beh allora mi sa che provo uscire tu Loki così almeno faccio vedere qualcosa in live perché se no facciamo tutta la sera far vedere sai che abbiamo sempre problemi io e te caspiterola oh mamma mia che roba non vedo l'ora di sta pace che dici tu che metta a posto i problemi dell'online perché è incredibile la cosa ciao amici e amiche benvenuti e benvenute nel giorno dal gioco eh no se riesco dal gioco mi chiuderà la live no no non dal gioco ah dall'online sì 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 beh adesso vediamo se già ti vede se ti vede o lo abbiamo risolto oh ciao giuli buonanotte giuli ciao amica mia grazie del passaggio ciao ciao io no ho preso la quella come si chiama la onda no come cazzo si chiama scusami l'online si chiama scusami onda onda ok scusami mi ricordavo niente ok ciao giuli funziona adesso si eh vedi allora aspetta che fammi finire il giro ciao giulia ciao amica mia domani buonanotte lord buonanotte lord domani eh grandissimi grande shader grazie mille grande bellissimo ah 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 fai del buon lavoro di drifter eh che tu si fai parte ormai del malto drum games racing team col mitico shuttle design devi fare eh gli adesivi cominciano a vedersi non bene no no devo riuscire a mettere in modo che non si perché stanno i grandi lì si mettono adesivo e si vede da un'altra parte come stai a vedere me la devo soprapporre adesivi adesivi in modo che mi hai fatto un capolavoro eh ogni livrea che fai Sharder è sempre sempre più bella che si allora tu Sharder avevi la livrea quella che io e te abbiamo uguale né che devi solo cambiare il nome e basta vero? delle onde si eh dopo allora quando avrai tempo quando avrai voglia di mettere Carla e Loki anche perché comunque poi quando Loki non corre col drift deve correre con la macchina uguale alla nostra tanto gli dici solo cambiare i nomi n'è vero? si ok no no quando hai tempo amico mio perché se poi torni anche alle 9 di sera torca miseria ma è un caso raro oggi alle 9 o normalmente torna con gli orari lì da lavoro? no oggi è non so ah ok oggi è particolare siamo sullo stesso circuito ragazzi del 66 giri di domenica di Spagna dove? dove c'è il mio nome ma si è vero tu abbiamo la scritta puoi farla e invece mi fai tu quella di Carla Sharder perché è quella io non sono capace quando avrai tempo se no se no passo a farle le tue due scuole nel secondo me non è vero non è vero oppure il problema che ha fatto dopo le condizioni di vidra e adesso non tu voglia di ammattere la condizioni di vidra eh sì è un casino eh sì è un casino eh sì oh là là addirittura allora stiamo facendo 12 giri raga aspetta finisco qua voglio no voglio vedere un giro con la librea tua far vedere i ragazzi a casa tanto più ho finito il giro perché l'ho fatto uno fatto bene perché ho fatto 66 giri domenica 88 giri ho fatto domenica dovrei saperla bene saprita qua ok 1.42 ciao ragazzi mi raccomando date vedere anche il replay della gara di domenica con Charles Leclerc che ha vinto al GP di Spagna ma Charles Leclerc lo guidavo io quindi ha vinto Marco Dranz e che è stato benissimo eh poverino sì allora vediamo un attimo praticamente c'ha avuto un problema di raffreddamento in attesa davanti del motore ah poverino vai vai il drift che stiamo guardando vai 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 se non va questa macchina allora lo guardiamo da fuori ragazzi guardate questa è la macchina di Loki che stasera ha avuto la livrea direttamente da Charles Leclerc che lo sta passando adesso ah 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 bellissima sta scena con Charles Leclerc dietro e Loki davanti bellissima senti così mamma mia che livrea ti ha fatto Loki tu lo capirai solo in futuro cosa ti ha fatto che capolavoro solo Loki ha questa livrea in tutto il mondo ragazzi bellissima grande Charles Leclerc grazie 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 di cuore perché il mitico Loki fa parte di Mario Drums Games Channel Racing Team e non potrà mai più andare con un altro team eh assolutamente assolutamente ahahah ahahah mamma mia guarda ma come fai e infatti come fai come fai ahahah 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 incredissimo guarda qua eh sì il capo il capo livrea dietro per vedere il suo capolavoro madonna ragazzi che meraviglia quel drift davanti scritto così è un è fichissimo eh anche Loki 47 si legge benissimo qui ma io poi lo riuscirò bene perché cazzo la ritmo è un po' più questo è un po' più qualche altro sguardo a volte mamma mia che meraviglia guarda sopra ragazzi sono sopra i 5 stelle non l'hai visto Loki sopra sul tettuccio poi dietro c'è un altro adesivo scritto in inglese l'occhi ha sbagliato dalla mozione io me la faccio coprire dai dai il retro il retro il retro guarda io faccio una scritta in inglese si è bellissimo grandissimo la fai il retro bella lì bella sta bella facciamolo andare si si siete arrivati adesso così ho fatto vedere la mega libreria che hai fatto tu all'amico Loki grande Sharder design è grandissimo veramente bellissimo allora Loki vai a scegliere la macchina però eh sennò parte parti con quella è un po' poi manda il settaggio Loki c'è un messaggio qua della playstation dopo dopo manda il settaggio il settaggio di quella macchina tecnica è un messaggio ovviamente qui è un po' mi fa isegna mi fa questo ed è un messaggio bella ma è il settaggio tutto amato dell'NSX? se ce l'hai mi serve no, eh magari il settaggio dell'NSX lo sto cercando come l'oro ma non lo trovo neanche online non lo trovo neanche io eh però c'ha un po' c'ha un po' di cosina ciao amici amiche di TX ha le polve per girare un po' si 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 eh bisogna bisogna prenderla un po' con le pinze eh è bellissima questa NSX è bellissima bisogna prenderla un po' con le pinzettine eh dai fai un paio di giretti per trovarti e poi partiamo, qui ci sono 12 giri e finiamo giusti giusti per le munizie il tuo QGiro a che ora arriverà secondo te? ah eh adesso sta andando a casa quindi penso c'è un po' oltre bellissima anche la livella il tuo problema Marco è trovare altri tipo si beh diciamo che dobbiamo prima essere bravi 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 una volta che siamo bravi 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 poi si può fare le lobby private perché eh quello quello si beh si fanno uno contro uno si fa con uno contro uno sarai l'unico sarai l'unico tu ma si vabbè si può fare anche da pad eh no si può fare anche da pad non è che dobbiamo per forza correre col volante perché ci abbiamo il volante sempre col volante eh cioè ci fa imparare da pad senza problemi ma non ti è dato la penalità che hai fatto la curva dritta no, ha l'occhi, ha l'occhi, sto vedendo l'occhi si ha fatto l'ultima curva e l'ha fatta dritta a me l'ha fatta vedere così si si, poi vai vederti la live l'hai fatta dritta è arrivato praticamente infatti l'hai tolta la penalità ma sarà l'online, sai che ti fa vedere le cose strane no, in realtà l'online la li mette tu come lo vedi così? se fai dritto ce la va si si beh, ma già normalmente se tagli una curva te la metti già automatico lui beh, non c'è riesce beh, per caso beh, dipende dalla lobby come la fai insomma è di senza penalità o non te la dà no, non c'è nessuno dai, fatti all'arrivo fai partire Charter eh i 12 giri sono già una bella 30 giri sono già una mezz'oretta più o meno per 25 minuti e bisogna fare la benza eh bisogna ricordarsi di farla eh, non è solo correre qua la benza la benzina amici miei la benzina allora quando l'avete letto amici miei vi canto la canzoncina della buonanotte ok? eh mi guarda meglio eh, non fai niente ma me la canzoncina dai dai fai partire fai partire buonanotte fiorellini eh, magari devo trovarlo non ce l'ho più no perchè stavo vedendo l'occhio è arrivato vediamo vediamo Charter dai 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 grande Charter frena dai gas 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 dai gas oh vediamo Charterino cosa fa che bella sta macchina ragazzi grande bravo l'ultimo l'abbai fregato porca la miseria era meglio se non facevi quel giro eh si no era quasi meglio che non lo facevi la prossima volta ti dico fai partire subito ahahah madonna fantastico è l'unico gioco guarda è l'unico gioco si si è fantastico ciao ragazzi stiamo facendo 12 giri a spagna amigos a che gomme hai messo? con solo benza? gomme pure gomme non molto ah si ok non tanto ma Charterino ti stavo vedendo del pupù ti stavo vedendo dietro eh ci stiamo facendo un trenino ahahah ahahah sta macchina qua bisogna prenderla un po' ciao amici amiche di twitch bebeee benvenuti si 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 facciola salvare le play vi ricordate di ricordarmelo o qualcuno di voi lo salva? ok ah questo devo salvarlo anch'io eh perchè uuuuh caspita ragazzi in tre eh si e vai siamo eravamo in tre ragazzi io ve lo volevo dire eh in tre eravamo lì si ho fatto 66 giri domenica ma è come se non li ho fatti io qualcuno mi ha dato una botta? io eh l'ho sentita ancora ancora sharder io ho visto sharder che secondo me si è spostato un po' perchè vi ha visto dentro eh si 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 secondo me si è spostato perchè ero dentro eh ero dentro ragazzi poi stiamo facendo un consumo gomme incredibili a fare queste cose qua all'inizio mmm ridotto mmm 5 per 5 per? uuuuh non non ah ah sai che anche io non lo so cosa c'ho tu? eh sto cattine di brutto ho già un tocchettino rosso già caspita eh mi sa che c'abbiamo su no non ci sono le morbide raga questa cavolo di curva eeeh tutte e due ragazzi cioè no ma quella curva lì è incredibile anche con la formula 1 me la son fatta tipo 40 giri fuori infatti io non so il tiktok fa ma la vuoi fare sta bene sta curva o no? ahahahahah super la cia cia oh gama cia ci si cia cia ci si cia cia ci si cia cia mi sa això giusto tu hai domanda guai cuai sei domanda mi sono mi sono scivola via lì questa vista non è quasi accolta cioè suoi stessi cia mi sono che entrate che entrate però bisogna tenerla niente niente bisogna tenerla bisogna tenerla ferma incredibile scusa te che ti ho toccato dentro e ti ho buttato fuori botte da orbi ragazzi stasera sentirete scusa ragazzi ricordiamoci di fare la benzina attenzione alla benzina a voi cosa dà come consumo come giri a te charder charderino consuma poco eh t'ho visto infatti mi sono spostato un po qui però quando ti sposti un attimo ragazzi è cacchiarola ciao amici amiche di twitch benvenuti ragazzi mega gara online con l'amico loki charder consumo gomme consumo gommettine da volante volante perché a volte il volante non è come bello quanto pensi perché è poco reattivo è molto meglio spazze a volte l'occhio che mi passa all'interno cose mai viste ragazzi come fai a passare uno di... infatti ma è bello che quella curva lì è difficile proprio beh ma l'importante è divertirsi ragazzi se ne frega almeno ci vuole un po' un po' di... di... di emozioni ci vogliono emozioni emozioni in queste gare se è vero i nostri amici eh ma guarda fila è andata una anna frac... beh sono gare appassionanti anche in tre amico mio eh cioè fai capire cazzarolina caspitorolina e poi col consumo gomme in dieci penso che in fila indiana si eh non pensare che va che a volte in tanti è peggio eh poi soprattutto quando si... eh ti ricordi quella sera quella sera la che sono entrati gli amici di Andrea che eravamo in tantissimi eh c'era qualcuno quello che pagavano anche eh qualcuno dava botte insomma vabbè l'importante è divertirti pochino infatti in tanti c'è freggio e... eh certo cioè in tanti è che il tempo che si diverte più e se non si uscita eh beh però c'è bordello guarda come genera una macchina guarda come genera una macchina questo è la raccola questa curva eh vedi buona sapersi cazzo piterola oh scusa Shard oh scusa Shard oh scusa Shard ciao Nello grandissimo stiamo facendo un bel 12 giri al Gran Premio di Spagna 14 addirittura pensavo 12 Nello il grandissimo Loki qui davanti locca locca il grandissimo Shard dietro è la pista dove domenica ho fatto 66 giri di Formula 1 allora non siamo amici se siamo amici dovrei vederli nei seguiti Nello giusto ragazzi per vedere il replay di Nello così li faccio vedere in live bisogna che ci siamo amici sulla play giusto sulla play allora mandami la richiesta amici amico Nello oh ho sbagliato mi è entrata la seconda caspita dici che non è bella la gara in tre va bene va bene ma se siamo amici no sulla play vado su seguiti se non siamo amici mandami la richiesta Marco Drums tutto in minuscolo chissà che chissà quanta benzina fa allora lo vediamo vero quanta benzina fa così Nello le faccio vedere i tuoi replay ah siamo già amici ok perfetto allora com'è che ti chiami su aspetta quando finisco ricorda stai qui un attimo quando finiamo la gara mi dici dove andare e li vediamo in diretta ok in live ciao amici e amiche di Twitch grandissimi mega gara 14 giri ah ok perfetto perfetto Nello dopo ricordamelo perché io c'ho una memoria tipo da 27 secondi e poi già che siamo in gara siamo alla fine noi eh però dobbiamo entrare anche noi quindi devo aggiungere i 66 giri che ho fatto domenica anche i 14 di stasera e ancora non ho imparato a fare quella curva lì dopo 80 giri è quella lì che ogni tanto si va fuori la penultima quella il gioco mi sta dicendo che ho finito la benza raga conviene che andiamo allora vai caspita siamo a 7 giri eh dobbiamo rifornire per 7 giri dai 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 cambia ste gomme cambia ste gomme che arriva Loki muoviti meccanici caspita intanto mi pettino ciao amici Twitch grandissimi amici e amiche stiamo facendo una gara online dai 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 fatela penza una bebutina allora dai 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 caspita dai muoviti 7 giri qualcuno è passato no davvero dai 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 corriamo corriamo andiamo a prendere Loki che sicuramente sbaglia con gomme nuove tanta benza ma deve far benza non penso che è entrato il sciarderino e non so eh e non lo so perché sinceramente se non cambia le gomme se ce la fa no io potevo andare avanti ancora e recuperavo e non mi passavi 8 secondi è un cambio più o meno ciao amici e amiche di Twitch siamo in Spagna con il mitico Loki il mitico Sharder caspita no sto sbagliando tutto sto sbagliando tutto due minuti ho finito le experience oh grande stai facendo una benza eh sì esperienza in circuito bravo Nello caspita beh sono belle le esperienze su circuito poi si impara anche a a pilotare in tutte le varie piste e con le varie macchine è una figata l'esperienza di partito quella volta che sono entrato mi avevo fatto l'abbonamento sì mi sono capito mi chiamavano che chiamavano credo chi vince sì sì quello ricordo bellissimo grande grande grandissimo eh immagino Nello dura 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 fare tutte oro tanta roba eh io anch'io ho fatto un po' fare tutte tutte proprio non esce ma un po' giusto sono male di un io 9 però no no ho sbagliato tutto prima con di pad ah grande Nello eh io l'ho fatta malissimo anch'io ciao vince amiche di twitch benvenuti ragazzi iscrivetevi al canale se non siete iscritti eh dai che arriviamo 5.50 dai 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 forza solo tre iscrizioni 5.50 quindi c'era la sua legazione eh no quello non è bello sì io è stato divertente eh bello grande se devi comprare un volante se devi comprare un volante e non spendere cose eccessive il G923 è proprio il più bello di tutti perché addirittura anche il force true force e il force feedback ci sono delle cose in più e delle esperienze in più che si hanno sui volanti più figli eh dovresti andare a vedere perché sinceramente non lo so ma dovrebbe essere su sotto le sotto le tre le due e cinquanta credo due duecento 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 poi dipende duecento 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 eh però sono sono un po' dei rottamini eh secondo me io ti può consigliere di tenere da parte i soldini e di aspettare a prendere uno serio perché quelli proprio tarocchi sono un po' delle baracche eh va bene beh magari ce n'è qualcuno che l'ha fatto bene diciamo che il G29 e il G923 è lo standard eh ma manca solo quattro giri caspita eh è anche quello c'è da vedere anche io eh 4,4 raga eh 3,4 non ce la fai ah ah piuttosto di andare a far benza dici ah ah sì sì l'avanzare l'avanzato no un po' dopo hai perso un po' eh perché vi le gomme consumate ma ho perso tempo per far perdonare un po' dopo di far perdonare grande nello dai dai che lo recuperiamo spider alex chi è entrato? tuo amico? ah tuo amico? sì ti posso scrivere alle mannaggia chiedi al tuo amico di iscriversi al canale eh è arrivata la carna nazionale? sì è arrivata la carna nazionale amica eh carla saluta con i tempi di relazione molto lunghi devi dire ciao mo perché sennò non è che ti leggono stanno correndo ciao ciao padre ciao l'oggi la giulia la giulia la giulia è forte sì la giulia è forte la giulia è forte se lo sei agilato e saluta lì la giulia è forte la giulia è forte ho fatto un po' con il treno ciao cri eh sto a mesare che si tratta di uno scarico è un po' eh Può parlare Sarola Mi carico la benza Devo perdere il posto Sì, sì Mi resta recuperato Sì, sì Sì, ma sei lì Eh, e poi è canato un paio di curve Qui basta canare un paio di curve Spagna Che credo che non ha Penso che non ha messo solo lobby amici, credo Sono amici Allora sono i nostri amici Che si stanno vedendo e entrano dentro Ho fatto anche il record Cazzo, non la entra dentro No, è andata, è andata Eh, ho fatto un lungo L'avevo presa benissimo Eh, no, eh no, eh no È andata, è andata Perché mi ho fatto stare di fila Sbagliato E guarda che 13 Quando adesso facciamo uno Ne manca un altro Eh, si, in teoria Adesso arriviamo Passiamo E manca un altro giro 14 Quando finiamo 14 Quindi se tira A me dà un giro i 7 Questo Eh, anch'io sto rischiando Forse lui Forse vedrai che adesso Sharder È quello che ce la mette In quel posticino Sì, sì Eh, 0,7 no Io adesso ho messo Eh, lui è entrato dopo È entrato dopo lui Ho fatto un paio di giretti, eh Eh, ma è questo il bello Perché è bello così Allora, il giro secco di 6 giri Se uno sbaglia una curva Hai finito la gara, no? Invece farla così Con il consumo gome Eh, vabbè Però la maggior parte Invece giocare così Con la benzina Delle cose Cacchio È quasi finita però È ormai finita Sì, sì C'è la fai Sì, sì Perché poi dopo un po' Iniziamo a... Ecco Non va più la macchina Finito così Vai Eh, ma l'hai finita Eh Bella lì Grande Loki Ricordati il replay Andiamo subito Andiamo subito Adesso andiamo subito Bravi bravi ragazzi Dai, dai È stato bravo Loki ha Ah, bravi tutti Sento molto male Questa volta è che Sto entrato Questa è che Ok Sì 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 Ah, c'è tempo bene Sono entrato Vabbè Entro adesso Almeno così Se loro fanno il pit Dopo C'ho già tutto C'ho già Il pit Già l'ho fatto Eh sì Eh sì Fatto bene Fatto bene Bella Marco Allora Allora Andiamo subito A vedere Grandissimo No Non l'ho salvato Ragazzi Salvatelo voi Salvato vai Oh La condivido anche Dai Bravo Allora Andiamo a vedere Il grandissimo Mannamia Che memoria Ragazzi Che memoria Incredibile Allora Seguiti Allora Allora Amico mio Perché non ti vedo Che siamo amici Nello Madonna Mi ha chiesto Il doppio audio Lì Quella la devi Tirare giù l'audio Si sente Red Rush Ciao Red Allora Che poi Red Non era Falco Si Eh non me lo ricordo Il mio cugino Red Rush Ah Red Red Grandissimo Allora Ma vanno Salvati Aspetta Aspetta Nello Si Devi salvarli E condividerli Giusto Ragazzi Scusate Dice Nello Se vanno salvati Vanno salvati E condivisi Oppure O lo salvi O lo condividi Si No no Devi fare tutte e due Tutte e due Tutte e due Nello Se no Fallo adesso Che tanto Andiamo a prendere La macchina E ce la fai Tranquillamente A farlo Così li vedo Perché vedi che non ti vedo Neanche uno Non ne vedo neanche uno Dei tuoi E se siamo amici In teoria Dovrei vederlo Bellissima gara ragazzi Ah non l'hai fatto Dovrei dovresti vedere Dovrei vedere il mio Aspetta che arrivo Guarda Guarda Non ho capito Dove fare un'altra gara Guarda che roba Che meraviglia Oh ma che bel colore Di cerchioni Guarda che roba Di fianco Bellissima Bravissimo Allora accetto adesso eh Bella Loki Grande Sei stato bravo Loki eh Grazie Ciao Olivia Oh è arrivata anche Olivia Allora Red Rush è tuo cugino Vero? È Cristian? Sì Grande Grande Dovrò imparare il tuo nome Scusami se a volte ti chiamerò Con nomi strani Ma devo imparare che sei tu Ah 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 Anzi Cristian Bella 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 Guarda ricordati Cristian Cristian e lui Io Cristiano Ma posso Cristian e Cristiano Porca miseria Farò casini Farò casini Sono già di fare casini Eh eh Vabbè dai Tanto lo sapete che non ho memoria Quindi Eh eh Ok l'ho accettato eh Grandissimo Bella Molto bella E ho fatto anche la foto Perché sennò dico Ma chi cazzo E questo qua E lo cancello Ah 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 Normalmente a volte faccio di queste cose Bellissimo eh Allora stavo aspettando L'amico Eh sì L'amico Nello che ci diceva Se ha fatto la condivisione Però a sto punto mi sa Però ho condivisa a te la clip Marco Sì 487 Manca proprio pochi soldini per comprarla Mancano quanti Sarò che se vuoi mandami le immagini Della storia che la cosa A prestigio A 30.000 Perché su whatsapp Non so se ti ha messo Marco nel gruppo No va bene No Lo mettiamo Lo mettiamo Eh sì Eh la stanza ha giocato comunque Ci ho portato che Christian Vabbè 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 Allora io ragazzi scusatemi Ma sto facendo Comprare Poi vado a letto Le 11 Ci vediamo Alla prossima Vai vai Ok Ok Eccolo qua Loki Ripubblica Bellissimo Va che roba Questo è di Le Shard Poi Il mitico Sharderino Ti fa La livraia Anche te Ho scritto Carla Sì 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 Uguale a questa Never Sharder Uguale a questa Identica Scrivi Carla Carla 12 Sì No è Bragali Bragali TV 12 12 Sì Sì l'anno 9 Pietro Non vuoi l'anno No Bragali TV 12 no? Eh sì Ah beh L'anno Si mette il numero O mettono la data Cioè l'anno proprio O mettono il giorno Di solito sulle corsa Uno o l'altro Ma è dono tutto Vediamo un pezzettino Del replay Raga Brutta 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 E così sarà Nostro team Stessa macchina Per tutti Ma ognuno Il suo nome Eh scusa Restia Ok Vedi Lo faccio Lo faccio Bene Lo faccio Lo faccio Lo faccio Lo faccio Tu vai poi A modificare La livrea E ti metti Il tuo nome Così Così poi risulti Anche nella tua live Con il tuo nome Stai correndo Con un caldo di Chard Se poi sembra Che sei Chard Se no se ti viene Uno schifo Poi dopo Vediamo Se te la riesci a fare Charderino Guarda Marco Tra che roba Che roba Che effetto Dove abbiamo fatto Un po' di bagarre Con l'altra raga Che figata Sì 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 Qui effetto Guarda 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 va Guarda Guarda Marco Drums Guarda Marco Come arriva a fuoco Bellissimo Vediamo Da Charder E' bellissimo Da dentro A questo Sei luoghi L'ultimo No Il terzo È Charder Sì 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 No Si vedono I nomi Sopra Si fa un po' di casino Che hai il nome Uguale Sì 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 Ma questo è il secondo giro Anche qui È stato a fuoco Secondo giro Bellissimo Uuuuh Ci ha Si è andato via Il culetto Della macchina Sul Il cordolino Sì 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 È bellissimo Il play Ricordiamoci sempre di condivizzarli Eh Sì Sì Juan Danza No Parola Com'è Vediamo da fuori Cos'è ha more? Mh Uh Oh Marco Tramps Wie onde Che Che Logate Stare hoo Sai che Sharder Scusa se ti disturbo mentre stai correndo Ma credo che non riesce a farla lui Perché sotto l'alettone L'unico che riesce a scrivere sotto gli alettoni Sei tu Vabbè tu provaci comunque Eh Loki Così almeno Eh se no povero Sharder Tanto dove basta che La prima lettera Metti la prima un po' l'altra E farmi solo come quella Lo spazio dove ci riesco a scuola No no Si scarica l'esera come è fatto E poi fa una modifica Tanto si può modificare Non è come non modificare Adesso chieda dei CV Monster Amico mio Grandissimo Monster Guarda la mega gara che abbiamo fatto prima Caspita Monster Devi dire dentro che tu amico mio Sharderino mi ha dato una incornata Ahahahah Provaci se poi viene uno schifo non viene a guardare gli altri Dopo lo vede un attimo di tempo Ma se magari riesci a farlo Esatto Non deve toccare niente Eh eh Grandissimo Monster Grandissimo Monster No no devi solo cambiare il nome perchè questa è tutte uguali E' bello che Ciao Monster Ciao Monster Allora io sono stanco molto stanco Abbiamo fatto una mega gara che è questa qui Guarda che roba Una attaccata all'altra Abbiamo fatto i primi 5-6 giri Tutti così Dopo col pitstop è andato un po' tutto Un po' tutto insieme Guarda che è buono Il pitstop ha fatto un po' di carini Sinceramente E ha vinto Domani possiamo giocare Perchè sono la mia Ok dai Allora Loki Sharder e Monster Domani ci facciamo un gran turismo Vi va? Dai Con i polmoni in gola Sì Sì Chi sei domani? Oh Dai dai Noi ci colleghiamo verso le 9 Quindi Se riesci ad arrivare Diciamo un po' prima Verso le 9 e mezza Così facciamo l'online Giocamo tutti insieme Perchè stasera si è arrivato un po' tardi Io ormai non Ne faccio nulla e basta Ciao Carla Grazie mille Grazie mille Monster Buonanotte Anzi Aspetta un secondo Che ti canto la cantora Buonanotte Ragazzi Canto la canzoncina Buonanotte Monsterino Buonanotte Piccolino Pensa a tanti Aspetta pensa a tanti Gomme bucatine Che domani ti farò E poi dopo E poi dopo Il sciarderino Ti butta fuori Al primo giro E poi dopo L'occhilino Ti sgomma e ti fa Il fumo davanti Che non vedi più niente Bellissima ragazzi Qui sono incredibili Violazioni di copyright Tutto piano Sempre se riesci a starvi dietro Ecco si fa così Si fa così Bravo Monster Allora ti buco le gomme davvero Così impari Bella lì Bella lì Monster Vai a riposare Non ti smette più Di cantare Però parola La canzoncina Della Buonanotte Personalizzata Per tutti voi Ciao ciao Monster Buonanotte Buonanotte Bellissimo Sto replay Tanta roba Sto replay Allora andiamo a comprare la macchina Ciao Carlo Ciao Marco Ciao tutti in chat Ciao Monster Buonanotte Buonanotte amico mio Eh l'onda Sto mettendo lì Dobbiamo far 30.000 Per comprare una macchina Quindi facciamo velocemente Questa qui No Aspetta Ci hai detto Ah è questo Aspetta Panamerican Tutta strada Ma adesso stacchi la live Marco No allora adesso sto facendo Una gara in Panamerican Per poter comprare la macchina La compro Ci faccio un giro Vieni a guardare la carretta nostra Dai Marco Eh caspita Non ce la faccio Ah dopo dici Sì sì Dopo stacco la live E vengo da Loki Sei tu che stai facendo la Ma non sei live tu Così quando stacco Vengo a vederti No Ah ok Ah non l'hai fatto Eh sì Ho bisogno di 50.000 Non riscena la macchina Mi fa tu Esattano tette giri Con questa carburante Non ho fatto a fare più Ok 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 410 Dai perché non è da neri i dieci Non avevo da dieci Eh Luisa poi Ma ho bisogno di questa carburante Però Stà a come se li c'è Magia amici ci siamo cambiati allora dai forzi allora ragazzi io vi saluto così voi giocate tranquilli noi facciamo un attimino una gara compriamo la macchina e andiamo a letto ci vediamo domani sera amici miei ciao 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 crie ciao charter ciao mitico marco e ciao mitico lochi ciao 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 amici miei ok amici miei ok dai allora amore ti ho messo il cambio automatico vai facciamo questa perché holly è veramente stanca domani dovete andare a fare quattro ore di corso ragazzi tornerò tardissimo se riesce non prende l'elettro nessuno prendiamo 59 milioni su solo sei giri così compriamo la macchina e riusciamo a provarla e diamo a letto eh amici e poi domani sera ma non credo proprio non credo proprio 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 ma riusciremo forse sabato a comprare quella da 12 milioni così riusciamo a fare il trofeo ragazzi eh vediamo se domani il mitico Zaneboia voglia di farmare un po' di soldini e anche tu amore mia se voglia di farmare qualche soldino domani ok perfetto guarda ti metti tutta pista ti faccio vedere anche eh e vai eh sì tra questa e la no 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 ma il muro non fa niente eh cazzo fanno il bulgare la paura è vero ragazzi eh 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 beh, va, lasciando stare che è toccato dentro un po' io, però, eh all'inizio era un disastro, ma ne mettono quei l'inizio come io tutti i muovi di spazio di bolla adesso c'è l'inforza paradissima spiega di quelle legnate quando vai giù, eh ciao amici e amiche di Twitch sta correndo Carla per andare a comprare la macchina strafighissima che non so neanche che macchina, eh rischetti bravissima bel tempo quello, eh manetta parole dure, beh qui c'è uno molto strano ahahah parole dure ah, e quello non dovevi farlo tutto ma tranne quello piuttosto buttati sui muri quello gli ho fatto fuori 20.000 euro eh sì, perché non stanno comprando 40.000 euro 40.000 euro vabbè, devo vedere per fortunello con i soldini no eh, ho scelto quella quella bellissima che sembrava un missile però questa sera ho comprato tre macchine ho comprato la Porsche 911 3 milioni una da 160.000 euro che è una Corvette strana e adesso andiamo a comprare quest'altra che sono quelle che escono fuori ogni tanto e non si possono comprare, no? quindi quando escono fuori e poi c'è quella da 12 milioni per fare il trofeo e per fare il trofeo perché se no non riusciamo a platinare il gioco e questa ce l'ha messa proprio adesso quando noi avevamo 38 milioni una settimana fa li abbiamo buttati proprio letteralmente come si dice ho comprato anche macchine doppie vabbè no, doppie che avevo preso quelle tipo l'alto come occupare c'era vabbè così che potevamo aspettare che potevo aspettare, no? adesso farmiamo e compriamo farmiamo e compriamo bellissima la libreria, ragazzi mamma mia che roba ok, allora dai prendiamo oh no no, che fortuna non te l'ha fatta non te l'ha contata allora prossima gara usciamo, andiamo a comprare la macchina corriamo e andiamo a letto no 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 no, è che qui Olivia non ce la fa più poverino, la vedete solo un pezzettino ma è qui eh eh, va bene pista quella che vuoi tu Dragon Trail, Monza si, fai il Dragon Trail ieri ho fatto quanto? eh, sei stata brava l'altro settimana scorsa ormai il corso è un po' che non giochi ok 500.000 penso che riusciamo a comprarla era 460 se non sbaglio eh, questa 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 la Shelby mi prendi un'altra ti da un'altra macchina e corri questa è la Shelby D65 ragazzi che macchina che macchina e Carla si rifiuta di correre questa ottame quindi facciamo no e poi l'altra, vedi ho preso questa qui questa qui è bella vuoi provare con questa? no poi l'ho preso ieri sera questa no e questa no questa dobbiamo prendere domani guarda che bella 12.000 e abbiamo solo 20.000 20.000 eh, dobbiamo farmare parecchio domani eh vabbè è un po' meglio metterlo con Leo assolutamente sì facciamo un po' per me eh sì allora dai facciamo un paio di giri vuoi con la tua NSX? sì però questa credo che è la mia la tua è questa eh mamma mia ragazzi che meraviglia che meraviglia allora Dragon Trail tu e i giri con la gente ok amo? impegno eh impegno massimo spray vai 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 è che gara però eh si 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 ah beh si devo cambiare la tuta perchè ce l'hai tu la pinta eh? non devi mai cercare la pinta tangolino ho preso dentro eh infatti andai fuori sicuramente fuori almeno ti ho tenuto vero quella è un'onda come la nostra se hai parlato di G5 sono guarda il canale adesso credo questa è una Nissan GTR e due Nissan GTR qua ciao amici e amici di Twitch grandissimi siamo per finire questa mega live fatta di ReAction di Doki per la sua livrea gara online fatta veramente all'ultimo respiro comprare macchine 3 milioni no quasi 4 milioni di macchine abbiamo comprato che sono tutte quelle che sono fitte sul garage le auto ecco 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 ok ultimo giro ultimo giro è un attimo loki la pilota del secolo grande loki sai che domani corre anche carla doki andiamo sul dragontrail buoni molto buoni pazzeschi vai bene questa cosa che vede dopo brava 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 grande attenta qui eh sento prega tutto seconda ok hai accelerato metà curva ciao amici amici di Twitch e la tempozzo dai 1.40 grande eh vabbè c'è 1.36 però beh grande Sharder domani sera Sharder gioca anche lei eh Carla eh facciamo dragontrail e si fa una bella giocata anche lei bella lì allora grazie mille amici delle garantite online grazie Sharder e i tuoi libri che sono bellissimi infatti stavamo anche vedendo questa qui che è fatto guarda che è uno spettacolo uno spettacolo va che roba va che roba va che roba bravissimo Sharder e noi ci vediamo domani amici miei con Gran Turismo 7 Sharder, Loki, Monster Carla, Bragali Marco Grouse eh e tanta 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 eh gareggianza 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 ho mettato una nuova gareggianza da nuova parola con una bella gareggianza eh alle allegranza ahahah ragazzi c'è te fregata ragazzi è tempo di andare a letto ragazzi io mi canto l'auto canzoncina buonanotte Marcolino fai tanti sogni tanti soldi un fanatec di Bipro arriverà gareggianza con tanta gareggianza gareggianza con tanta gareggianza noi vi salutiamo amico Loki, Sharder e noi voi ragazzi che siete Eli adesso gareggianza gareggianza una R e lo so che correte lui perché è una parola inventata quindi lui dice no non si può fare non si può fare ciao Sharder sì signore ahahah mi piace tantissimo sì signore sì signore ahahah grazie Sharder saluta Oli Oli saluta Sharder amore mio oh che bella Oli gare con una R gareggianza la gareggianza ragazzi dai si mette la mania nei cappelli una gareggianza domani gareggiamo beh ma ci sta gareggiamo con la R è lunga ahahah allora ragazzi io sono veramente morto da sonno si vede anche ciao a tutti buonanotte ciao amore mio a domani ciao Sharder ciao Loki ciao a tutti amici di tutti ci vediamo domani ciao ciao notte ciao ciao Grazie a tutti.